Ragazzo mio, calmo, ogni cosa... E io sono calmo, è la mia famiglia che non mi capisce. Dovrei alzarmi all'alba. Sono dei macellai. E vorrebbero che facessi il macellai anch'io, capisci? Cose da pazzi. Andiamo, andiamo. Sì, maestro, andiamo. Ma dove andiamo? Dalla Fasoli, a prendere i biglietti. Chi è la Fasoli? Una delle migliori soprano del nostro teatro lirico. Sentirai che voce, che timbro. E andiamo nel suo camerino. Certo. Sul palcosceni. Certo. E ci fanno entrare. Ci sono nato qui dentro. Grazie.